Dopo la debacle interna contro il Lecce ci voleva una vittoria per tirarvi su di morale, è ritornato al modulo quello che gli era tanta soddisfazione con il 3-5-2. Sì, ultimamente in 5 partite che abbiamo utilizzato questo modulo abbiamo fatto 13 punti, quindi sicuramente ci dà un po' più di quadratura e un po' più di compattezza e magari ci aiuta un po' nei momenti che subiamo un po' l'avversario, però io credo che non sia, come ho sempre detto, non credo che sia mai una questione di moduli, ma quello che conta è la testa, a prescindere dai moduli, non penso che i moduli vincono le partite, è la testa che fa la differenza, probabilmente con questo modulo si sentano un po' più in grado di aiutarsi, ripeto, nei momenti di difficoltà della gara, però anche con questo modulo per esempio a prima mezz'ora abbiamo fatto male, eravamo probabilmente ancora non dentro la partita, abbiamo combinato di cotte e di crude, soprattutto su un'occasione del primo gol e poi su tantissimi errori di passaggio e nella trasmissione di palla, poi fortunatamente l'1-1 ci ha svegliato e dopo nel secondo tempo penso che abbiamo legittimato il successo, perché abbiamo avuto tantissime occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato fino in fondo per troppa leziosità o superficialità. Salve mister, un secondo tempo tutto di marca Ternana, quanta debolezza c'è stata nel Crotone e quanta forza nella Ternana di voler tornare a vincere dopo quella che è stata la partita precedente? Io penso che tra le due squadre la differenza è stata il momento, perché io continuo a ribadire che per me il Crotone è una squadra fortissima, pensata da persone competenti che fanno calcio, sanno fare calcio per vincere il campionato, poi purtroppo ci sono delle annate come questa che non si capisce motivi e non si riesce neanche a risolverli, per le quali si va in difficoltà anche se avevi pensato un altro tipo di campionato e quindi penso che le differenze tra le due squadre non siano sotto il profilo tecnico, perché io credo che il Crotone non abbia da invidiare niente a nessuna squadra di questo campionato, ma probabilmente il momento ha reso questa squadra magari psicologicamente un po' in difficoltà e noi abbiamo approfittato di questo stato delle cose, perché ripeto, per me il Crotone è una signora squadra. E posso chiedere un'altra domanda? Buonasera Buonasera Nel secondo tempo ci si aspettava un Crotone diverso, anche alla luce di quello che stava accadendo sugli altri campi, perché una vittoria avrebbe riportato il Crotone a un punto da terzo ultimo e quarto ultimo, quindi in piena corsa per la salvezza, invece il Crotone non ha mai superato la metà campo e la sua squadra con un po' di colpa ha raggiunto il gol solo al trentesimo minuto, visto che avete sciupato tantissimo. Secondo me il secondo tempo avete lavorato molto, molto bene in mezzo con i due centrali che davvero hanno fatto la differenza. Sì, abbiamo anche lavorato alla fine del primo tempo, perché io mi sono molto arrabbiato con i miei, loro l'hanno capito e probabilmente è servito, perché sicuramente nel nostro secondo tempo dal punto di vista della mentalità e dell'intensità è stato sicuramente diverso dal primo. Poi ovviamente nel momento in cui si riesce a riportare mentalmente la squadra dentro la partita è chiaro che la mia squadra ha dei valori, però perché vengano fuori c'è necessità di stare sempre sul pezzo e noi nella prima mezz'ora non l'eravamo, ma no perché abbiamo subito il Crotone o il Crotone ci ha messo alle corde, ma perché eravamo proprio non lo so, un po' mentalmente sicuramente meno presenti rispetto al secondo tempo. Ministero, preferisco farle una domanda sulla stagione, quanto il calcio italiano in generale deve imparare a obbligare piazze come quelle di Terni di essere felicissime di una stagione del genere, felicissime di un progetto che non ha mai rischiato da neopromossa di andare giù, quanto in generale proprio la capacità di contenere commentatori diciamo estremi come me in questo momento? Ma no, diciamo che molto dipende anche da come si comunica intorno alla squadra, perché è chiaro che, io ho sempre detto, il nostro problema è aver vinto il campionato come lo abbiamo vinto l'anno scorso e soprattutto aver vinto a Bologna in Coppa Italia facendo 5 con la Bologna a casa loro, questo c'ha sicuramente, mi ricordo uscivo dal campo e Sabatini che allora era a Bologna mi fece complimenti, gli dissi lei mi fa complimenti ma questa partita noi la pagheremo cara e in effetti è stato così perché il calcio d'agosto ti illumina, ti illude e io invece sono perché nel calcio d'agosto vengono subito fuori tutti i problemi delle squadre in modo che non si mette la testa sotto la sabbia e si cerca di migliorare sotto ogni punto di vista. Noi probabilmente il campionato dell'anno scorso e quella partita lì ha alzato la temperatura da quel punto di vista e tutti si aspettavano che anche in Serie B potessimo proporre quello che abbiamo proposto l'anno scorso. Io ovviamente non mi sono mai illuso, sapevo che ci sarebbe stato dei grossi problemi e in effetti il nostro inizio di campionato ha avuto le difficoltà che una matricola deve avere anche se aveva dei giocatori importanti che comunque questa categoria la conoscevano bene ma che comunque negli ultimi anni avevano giocato poco e avevano avuto molti problemi fisici. Quindi sapevamo che dovevamo soffrire al netto delle critiche, al netto di quello che magari succede in tutte le piazze, cioè non è solo un problema di terni, è un po' un problema del calcio in generale che si è un po' troppo superficiali nei giudizi, basta una partita fatta bene, siamo da Champions League, si perde una partita, dobbiamo andare tutti a lavorare, l'allenatore deve essere cacciato. Io per fortuna sia da calciatore che nella mia nonna stagione d'allenatore mi sono sempre preso le mie responsabilità e ringrazio la mia infanzia che mi ha permesso di avere le spalle larghe e di non farmi condizionare da niente e da nessuno e di non soffrire più di tanto certe situazioni anche perché ho avuto la fortuna di giocare e allenare sempre in piazze calde e numerose, quindi la cosa l'ho potuta gestire secondo i miei canoni caratteriali che, ripeto, grazie alla mia infanzia sono per non abbattermi mai, per andare avanti per la mia strada facendo quello che credo, poi ovviamente non ci ha riuscito Gesù Cristo a mettere d'accordo tutti, figuriamoci se ci posso riuscire. Va bene? Grazie, arrivederci.